Elena Icchim del team Italia Poker Stars qui al casino di campione all'Italia Rounder Poker Tour e non è andata benissimo? No, direi di no, è andata male da quando ho iniziato il torneo, non ho visto carte, ho fatto qualche manina, sono arrivata al day 2 e poi sono uscita. Andrà meglio, speriamo, Sanremo a fine mese? Si spera sempre che andrà meglio. Sei un volto noto di Poker Stars, ci racconti com'è nata questa collaborazione circa un anno fa con la Poker Room forse più famosa d'Italia? Sì, loro stavano facendo un team pro d'Italia, cercavano una dona, mi hanno visto giocare e mi hanno preso. E' aggressiva al tavolo oppure adotti la tattica più accorta? Di solito sì, preferisco più aggressiva, non mi piace morire di bui, preferisco qualche mano provarla. Magari quando non ti vengono le carte soffri, come è successo? Sì, infatti sì, veramente non è bello fare un torneo del genere. Senti, tanti partecipanti, qui a campione circa 250, tutti i tornei, eventi collaterali, che messaggio vogliamo dare? Ovviamente quello di provare a giocare per cercare la Poker Stars che è dentro ognuno di noi. Sì, giusto, tutti i giocatori giocano per trovare il sogno, per vincere, quindi un consiglio di provare sempre, di giocare sempre più meglio, di prendere esperienza giocando. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.